Siamo in un'ex stazione ferroviaria, quella di Fontevecchia, che adesso ospita un centrovisite, quindi una casa del parco, quello delle dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. Qui lungo la via Traiana è un antico tracciato romano dove è possibile percorrere tutti i sentieri che portano lungo la costa attraversando questo parco regionale. Un mese fa è stata stipulata una convenzione tra la federazione delle banche di credito cooperativo italiane e Federparchi. Noi in particolare con il parco regionale delle dune costiere abbiamo concretizzato un accordo fin da qualche anno fa. Per noi un partner importante è la banca di credito cooperativo di Ostuni, insieme alla quale abbiamo potuto promuovere tutte le aziende con il marchio del parco e insieme alla quale noi intendiamo anche svolgere dei progetti legati alla cura e alla manutenzione di luoghi così delicati come quello dove ci troviamo oggi, anche attraverso l'accordo insieme a Federparchi. Con le biciclette ci inoltriamo nelle aree rurali del parco, dove è custodito un tesoro, è quello del dolmen di Montalbano, un'antica costruzione monolitica di 2000 anni avanti Cristo. Questa è un'area privata, così come gran parte delle proprietà che troviamo all'interno di questo parco. Qui veramente la tenacia di tanti agricoltori e la passione di tanti proprietari permette ancora a questi luoghi di essere custoditi e ben gestiti. Sempre lungo la via Tragliana arriviamo a un'ex casa cantoniera dell'ANAS, adesso trasformata ad albergue a bici per ospitare cicloturisti e soprattutto per erogare tutta una serie di servizi alla ciclabilità. Abbiamo lavorato molto nel far nascere delle imprese di giovani, soprattutto come imprese cooperative, che tra di loro anche cooperano in quanto erogano servizi diversi e integrati tra di loro. Sono Francesco della cooperativa Madera e mi occupo di tutti i servizi di manutenzione della bicicletta e delle attività di ciclotrekking. Ormai operiamo da due anni all'interno del parco e ci occupiamo di accompagnare tutti i visitatori che vogliono visitare il parco in bicicletta, quindi in un modo sostenibile. Naturalmente alla Banca di Credito Cooperativo di Ostuni interessa moltissimo fornire un aiuto anche alle aziende che operano all'interno del parco. Non grosse operazioni, non grosse società, ma in piccole imprese del territorio. Percorrendo i sentieri della Via Traiana arriviamo fin qui a Masseria Brancati, una delle 20 aziende che hanno il marchio del parco. Sono tutte aziende agricole e biologiche e che hanno fatto della tutela della biodiversità e del passaggio un loro modo di fare impresa. Collaborano tra di loro, collaborano in rete e collaborano anche con il parco. È un'azienda biologica, un'azienda che è stata tramandata da diverse generazioni. Tra le altre attività ci sono quelle fatte in collaborazione col parco delle dune costiere, un corso di assaggio degli oli dove vengono insegnati a riconoscere gli attributi positivi e negativi degli oli e soprattutto l'olio proveniente da queste piante millenarie. È chiaro che ci sono stati degli alti e bassi e qualche anno fa ero un attimino preso da un momento di sconforto a causa dei prezzi bassissimi dell'olio e quindi di conseguenza delle olive. Ho seguito suggerimenti della direzione del parco delle dune costiere, il quale mi consigliava di puntare, oltre all'eccellenza alla quale avevo già iniziato, di puntare anche a un'agricoltura biologica. Questo consiglio mi è stato utilissimo perché adesso ho conquistato delle fette di mercato che prima non era impensabile raggiungere. Siamo in un'ex cava di tufo, abbandonata alla sua coltivazione da circa 40 anni e dove la natura ha cominciato a riacquistare ogni spazio. Negli ultimi anni, attraverso un'opera di volontariato e soprattutto la partecipazione di tanti soggetti, insieme anche agli operai forestali della Regione Puglia, è stato avviato un progetto di recupero per mettere piante officinali per la produzione di saponi da olio bio degli olivi secolari insieme agli oli essenziali ottenuti dalle piante officinali che in questa cava crescono. Proprio per questo recupero è stato utilizzato anche un contributo fornito dall'Istituto Centrale e dalle banche di credito cooperativo. L'integrazione tra l'ente parco e i privati, coloro che hanno le aziende agricole, le cooperative di servizi, ma anche chi gestisce i lidi, gli stabilimenti balneari sulla costa, è fondamentale perché attraverso questa integrazione si garantisce il mantenimento dello stato dei luoghi. Grazie Grazie Grazie